Intorno alla mezzanotte, proprio quando solitamente ha inizio la processione, il simulacro della Vergine Adolorata si è visto sul portone, semplicemente affacciato sulla scalinata del Tempio di San Domenico, mentre risuonavano le suggestive note di aggravame, quasi una colonna sonora dei riti tarantini, muta, trafitta e immobile, come sempre, sulla soglia della chiesa. In quel momento, Sua Eccellenza il Vescovo Filippo Santoro ha impartito la benedizione alla città. Nella notte la statua della Madonna non è stata lasciata sola, alcuni confratelli hanno infatti vegliato su di lei per non abbandonarla proprio nel giorno del suo pellegrinaggio. Abbiamo raccolto la commossa riflessione di Giancarlo Roberti, commissario della confraternita della Dolorata e di San Domenico. Stanotte la Madonna non è stata sola, come già hai detto tu bene prima, eravamo tre o quattro confratelli, la Madonna non è stata sola, l'abbiamo vegliata, non potevamo lasciarla certamente sola e fra un po' inizieranno l'ufficio delle letture con il presidito da Don Emanuele Ferro, il nostro padre spirituale. E alle ore 12, altra funzione, conclusiva per noi, le sette parole di nostro Signore Gesù in croce e quindi così conclude il nostro percorso. Io volevo fare un augurio a tutti, un augurio di pace, un augurio di Pasqua, di una Pasqua di resurrezione e soprattutto una Pasqua di rinascita perché per questa situazione di emergenza sanitaria. Volevo che tutti pregassimo ancora di più, anche alla Vergine che ci unisce tutti quanti e pregare per le persone che non ci sono più, per le persone che sono ammalate, per i loro familiari e soprattutto per i medici che si proteggono per questa emergenza.